E ringraziamo Angelo Cappellina, nostro inviato di quartiere, per averci segnalato che questa sera presso Mosso Milano, luogo multifunzionale gestito da un praternariato di cooperative sociali e associazioni, l'Assemblea Abitare in Via Padova presenta il documentario Start Wearing Purple. Si tratta di un film tedesco incentrato sul tentativo da parte di alcuni berlinesi di estromettere le grandi società immobiliari dalla città per rendere le abitazioni accessibili a chi ha bisogno. L'appuntamento è in Via Angelo Mosso alle ore 19 e 30.